Un litigio finito nel sangue e quanto accaduto in nottata alla periferia di Foggia tra via Sant'Antonio e via Sansevero dove un marocchino di 38 anni è stato ferito da una gamba da due fendenti, inferti con un coltello o con un altro oggetto appundito, forse un punteruolo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che stanno indagando sull'accaduto, a dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno chiamato il 118 poiché sull'asfalto vi era un uomo ferito da una gamba. Trasportato al pronto soccorso, lo straniero è stato ricoverato agli ospedali riuniti, le sue condizioni non sono gravi. La vittima ha riportato anche una lesione ad una mandibola causata dal colpo ricevuto durante un litigio. Da indiscrezioni pare che poco prima dell'accoltellamento ci sarebbe stato un litigio tra la vittima e altri cittadini stranieri per futili motivi. Una vicenda sulla quale gli investigatori stanno cercando di fare luce anche con l'ausilio di alcune riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza di esercizi commerciali presenti in zona. Pugno di ferro dalle forze dell'ordine contro l'abusivismo al quartiere Ferrovia di Foggia e in altre zone della città. Gli investigatori infatti nell'ultimo mese hanno controllato 11 esercizi pubblici, 27 attività di commercio ambulante, 103 le sanzioni amministrative elevate, 1.620 le cover per i telefoni cellulari sequestrati, oltre a 90 tra CD e DVD. Gli investigatori hanno inoltre controllato 300 persone, 54 sono state quelle portate in questura e 33 sono state quelle denunciate per vari reati. Sono stati effettuati mirati servizi nei diversi quartieri della città per verificare la posizione amministrativa delle bancarelle, rilevando così le contestazioni previste. Sono state controllate le zone frequentate da parcheggiatori abusivi in modo da prevenire il fenomeno e reprimerlo quando trovate a svolgere le attività con sanzioni amministrative. Sono state effettuate anche tutta una serie di attività, a volte al contrasto dei venditori ambulanti di frutta e verdura. In particolare sono state elevate anche una serie di contravenzioni al codice della strada per occupazione di suolo pubblico, nonché sanzionati gli abusi relativi all'utilizzo improprio della licenza itinerante con sequestro di merce. Un fenomeno, quello dell'abusivismo, che danneggia il commerciante che segue le regole e paga regolarmente le tasse. Ma è necessario anche tenere conto che molto spesso l'ambulante abusivo vende prodotti che possono essere dannosi per la salute del cliente. Ecco perché sarebbe necessario che questi controlli avvengano con maggiore frequenza e si dia un segnale chiaro e deciso a chi non rispetta le regole. Disagi su alcune provinciali della Capitanata per il temporale che si è abbattuto su gran parte del territorio e in particolare in alcune zone dei Monti Dauni. La situazione più difficile è stata registrata sulla provinciale 138, la strada che collega Pane ad Accadia e Monte Leone di Puglia. La pioggia battente infatti ha causato l'ennesima frana nella zona, riversando sul manto stradale detriti e fango che hanno causato il rallentamento della circolazione stradale. Disagi anche sulla SP 101 nel territorio di Sant'Agata di Puglia, cui è stato necessario l'intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia che hanno lavorato circa tre ore per evitare ulteriori disagi alla circolazione stradale. Anche in questa arteria la violenza della pioggia ha portato a valle fango e detriti che hanno invaso le carreggiate della provinciale. Altri disagi sono stati registrati nelle strade interne dei comuni dei Monti Dauni, sempre causati dal violento nubifraggio. Una situazione è quella delle strade del subappendino Dauni, ormai cronica e nota, soprattutto a tutti. Negli scorsi anni ci sono stati interventi tampone, utili solo a risolvere la condincenza momentanea ma che non hanno risolto il problema della viabilità, problema che si ripresenta con tutta la sua emergenza al primo temporale. Non sono trascorse nemmeno 24 ore da quando il sindaco Franco Landella ha risolto la crisi a Palazzo di Città, che i contrapesi sono già evidenti. Sebbene i tre consiglieri Clemente, Cassitti e Iaccarino abbiano più volte rimarcato la loro estranità a nomine, encomi vari e bilanciamenti, il tutto nel nome del bene di Foggia, il sindaco mette sul piatto la presidenza dell'Ataf. Il nuovo timoniere della partecipata sarà Stefano Torraco, già componente dell'Ordine degli Ingegneri e da più parte indicato come uomo di fiducia di Sergio Clemente, il consigliere comunale ex PD che ha abbracciato in extremis la causa di Landella, risolvendone infatti la crisi. Torraco professionalmente ha avuto ruoli da protagonista già nell'era Ciliberti e nel 2009 è stato impegnato nel collaudo della sede del distretto agroalimentare del tavoliere. Ad attendere Torraco c'è l'ormai nota avvertenza Ataf, retribuzioni inadeguate, scatti di anzianità e parametri congelati, bus obsoleti e fatiscenti e non efficienti per garantire il contratto di servizio. Questa è la patata bollente che il sindaco Landella ha affidato nelle mani di Torraco, probabilmente per chiudere la crisi mettendo sul piatto la presidenza dell'Ataf. Il giorno della verità di Franco Landella è arrivato dopo aver trascorso 19 giorni da dimissionario in modalità di remita, partecipando solamente a tre riunioni di maggioranza e chiudendosi all'esterno in ossequoso silenzio. Il primo cittadino romperà gli indugi e si presenterà in conferenza stampa per spiegare le ragioni del suo abbandono e del suo rientro alla guida della città di Foggia. Con l'ingresso di Cassitti, Clemente e Iaccarino, Landella conserva una maggioranza di 17 uomini, mentre la porta non è ancora chiusa per la Lega. Il primo cittadino ha fatto sapere che sul piatto c'è una rivisitazione della giunta con uno o due posti da liberare, qualora i salviniani dovessero appoggiare il governo cittadino. La replica del segretario locale, Silvano Contini, è netta. Non ci interessano gli assessori e non ci interessano le nomine, come appena successo in Ataf. La nostra posizione rimane quella esposta sino ad oggi e di sindaco Landella, lo sa già, accusa il leghista. I tre consiglieri, come noto, avrebbero voluto l'azzeramento della giunta e la diminuzione degli assessori, possibilmente da pescare nel mondo delle professioni, per comporre una sorta di esecutivo tecnico. Landella, invece, dal canto suo, propone un rimpasto e a questo punto le posizioni rimangono distinte. È stato l'uomo della mediazione con la Lega e ci proverà ancora, assicura, a ridurre le distanze tra i consiglieri Splendido, Vigiano e Fiore, ed il sindaco Franco Landella. L'ex sindaco Paolo Agostinacchio osserva le evoluzioni della crisi di giunta, annota le novità dell'allargamento della maggioranza, ed è fiducioso che il perimetro del centro-destra possa allargarsi a venti consiglieri per ultimo stralcio di mandato. Io auspico che in prospettiva il centro-destra trovi una sua unità e superi questo momento di crisi che io vorrei ritenere interlocutorio. Investirò le mie risorse laddove gli amici me ne diano la possibilità per venire a dei chiarimenti. Perché questa è una trattativa, è naufragata per certi versi? Guardi, ci sono stati più incontri tra me e gli esponenti della Liga. Ad un certo punto sono prevalse delle logiche che mi sfuggono, per cui la trattativa si è interrotta all'ultimo momento. Però dal documento reso noto dalla segreteria e sottoscritta anche dai consiglieri comunali, io rilevo degli spiragli per approfondimenti e chiarimenti. Lei è sempre uno dei risponti più autorevoli del mondo di destra. Come giudica questa apertura a sinistra del sindaco Landella? Oggi vi è una crisi profonda di sistema, per cui cadute le ideologie che hanno motivato la mia esistenza politica e la mia generazione, oggi vi è una confusione. Per cui non mi sento di focalizzare l'obiettivo polemico su chi ritiene oggi di appoggiare un'amministrazione di centrodestra o il centrodestra che ritiene di tener conto delle decisioni di elementi e di consiglieri comunali, anche perché credo che non vi sia il vincolo di mandato. Probabilmente io avrei agito personalmente in maniera diversa, ma io sono legato ad un modus operandi e ad una concezione della politica differente, quella che ci ha portato in piazza, ci ha portato a scontri, ci ha portato alla triste stagione degli anni di piombo. Archiviata la crisi amministrativa, la CISL di Foggia chiede un confronto con il sindaco Franco Landella su questioni essenziali per i cittadini mai affrontate, a suo dire, con una strategia programmatica e senza mai spendersi in piani di interventi partecipati che abbiano coinvolto lo spaccato sociale della città. Le sacche deboli sono tante, così come illustrato dal segretario generale della CISL di Foggia, Emilio Di Conza. Le priorità sono soprattutto le emergenze di questa città, che riguardano la raccolta dei rifiuti, riguardano la questione urbanistica, che riguardano l'emergenza abitativa, che riguardano la legalità, la legalità quale per condizione indispensabile per un progetto di futuro, duraturo per questa città. Per cui su questi temi noi proprio questa mattina abbiamo chiesto un confronto con il sindaco di Foggia, alla luce anche, come dire, di queste novità che sono emerse rispetto alla possibilità di questa amministrazione di poter andare avanti. Già durante le trattative per la risoluzione della crisi di giunta, l'ex segretario generale CISL Giulio Colecchia si è rappresentato come mediatore, così come ricordato in conferenza stampa dal consigliere Leonardo Iaccarino, circostanza da cui Di Conza prende le distanze. L'ex segretario non fa testo, il segretario generale della CISL in questo momento è quello che vi sta parlando e vi dice che non è un tema oggi che ci riguarda quello di questo rimpasto. A noi interessa soprattutto che il sindaco, che è ritornato alle proprie funzioni, dia risposte alla città e apra un confronto con tutte le parti sociali. È stata approvata a Palazzo Dogana dal Consiglio Provinciale di Foggia la mozione sull'integrazione delle reti di trasporto in hub intermodale dell'area vasta di Capitanata a Foggia. La proposta di integrazione modale e gli interventi di sistema previsti erano stati approvati lo scorso anno dal Consiglio Comunale di Foggia al fine di connettere le varie reti di trasporto, promuovere il maggior utilizzo del trasporto collettivo, prevedendo tra i benefici, con la realizzazione del hub intermodale nel capoluogo foggiano e gli interventi di sistema correlati, la riduzione degli attuali tempi di percorrenza ferroviaria di circa 10 minuti per i treni Frecciargento e di circa 15 minuti per i treni intercity per tutti i collegamenti dall'intera Puglia e parte della Basilicata. Tutto ciò rappresenta concretamente l'antitesi del cosiddetto foggianesimo, in quanto, seppur realizzato in Capitanata, coinvolge positivamente tutti i fruitori che adoperano tali servizi di trasporto, ha sottolineato il consigliere provinciale comunale di Foggia, Pasquale Cataneo, e prevederà l'inclusione di questa visione attraverso la funzione fondamentale di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale nell'aggiornamento del piano di bacino del trasporto pubblico locale dell'area vasta di Capitanata, che, correlata a quella prevista dai piani urbani di mobilità sostenibile in ambito comunale, permetterà di attuare al meglio servizi per una migliore mobilità per tutti i cittadini e per il sistema produttivo. Con la definizione dell'atto viene ritenuto utile l'hab intermodale a Foggia, secondo la visione sistemica integrata, per la collocazione logistica e territoriale, quale ambito infrastrutturale organizzato e strutturato destinato a favorire, con tempi ridotti, la mobilità sostenibile di persone non solo dell'area vasta di Capitanata, ma dell'intera Puglia e di gran parte della Basilicata. Strada ancora e sempre in salita, quella per l'approvazione, in quarta e seconda commissione congiunte, della proposta di legge in materia di danni provocati dalla fauna selvatica di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico. Un'iniziativa trasversale che parte da Donato Pentassuglia, partito democratico, e vede Giandiego Gatta, Forza Italia, tra i più convinti sostenitori. Ecco le sue ragioni. Sono sempre più frequenti i casi di danni cagionati dalla fauna selvatica. Penso in particolar modo ai nubulati, penso ai cinghiali, ma penso anche ad altri animali come i cani randaggi che hanno fatto scempio di greggi e spesso hanno recato anche danni a persone e attentato anche, perché no, all'economia locale di determinati lembi del territorio regionale. Ieri sono stati approvati a maggioranza i primi cinque articoli, ma si è acceso un duro confronto con la presentazione di un emendamento da parte di Gianluca Bozzetti, Rosa Barone e Cristian Casili del Movimento 5 Stelle, proprio al comma 2 dell'articolo 5, che nell'ambito delle misure straordinarie di controllo della fauna selvatica, contenimento numerico, allontanamento o abbattimento controllato per proteggere gli agricoltori e preservare allevamenti e colture, include pure specie domestiche, ma inselvatichite e pericolose. I consiglieri pantastellati avrebbero infatti voluto preservare cani e gatti anche se randaggi e la bocciatura del loro emendamento ha determinato l'abbandono dei lavori per protesto da parte del Presidente della Seconda Commissione, Cosimo Borracino, e un duro scontro, poi proseguito a colpi di comunicati, che sicuramente verrà replicato anche nell'Aula Consigliare nelle prossime settimane.